brani dal libro battesimo di spirito e liberazione del pastore danny smith capitolo 12 la guarigione e la volontà di dio prima parte quando si studia il soggetto della guarigione nella bibbia si insinua un piccolo dubbio che dio voglia guarire la domanda che la maggioranza dei cristiani si pone a proposito della guarigione è rientra nella volontà di dio guarire i suoi figli oggi molti sinceri cristiani lottano con questo problema è nella volontà di dio guarirci oggi oppure la guarigione fisica è riservata al futuro quando gesù tornerà e ci libererà da questo mondo di peccato l'infermità e la malattia fanno parte della sorte dei figli di dio fino al secondo avvento come facciamo a sapere qual è attualmente la volontà di dio quando c'è in gioco la guarigione delle nostre malattie fisiche avevo la sensazione che se avessi studiato il ministero di gesù avrei trovato la risposta per la bibbia è molto chiaro perché gesù venne in questo mondo di peccato una prima ragione fu perché noi potessimo comprendere meglio il padre quando filippo chiese a gesù di mostrare loro il padre gesù replicò chi ha visto me ha visto il padre giovanni 14 9 l'apostolo giovanni ci dice che gesù venne per rivelare la gloria o il carattere del padre vedi giovanni capitolo 1 versetto 14 la missione di gesù gesù aveva ben chiaramente la sua missione egli venne per fare la volontà del padre e per compiere l'opera sua giovanni 4 34 ciò che questo versetto ci dice è che leggendo del ministero di gesù in favore dei bisognosi possiamo chiaramente comprendere l'atteggiamento del padre verso i suoi figli l'attitudine di gesù è la stessa del padre perché essi sono uno dunque l'atteggiamento di gesù verso chi soffre di infermità e malattie è lo stesso del padre così cominciai a leggere che cosa riportano gli scrittori dei vangeli riguardo all'attitudine di gesù e al suo ministero verso chi soffriva di infermità e malattie gesù venne per dare il suo popolo vita in abbondanza vedi giovanni capitolo 10 versetto 10 da molti anni conoscevo questo testo ma non l'avevo mai considerato alla luce della guarigione chiunque abbia sofferto di qualche infermità e malattia sa certamente che una tale vita non può essere descritta come abbondante ci sono molti limiti nella vita di chi si trova in tali condizioni l'infermità la malattia assorbono tempo energia e attenzione giorno dopo giorno la malattia monopolizza il tempo l'energia e l'attenzione non solo del malato ma anche di chi se ne prende cura e li vuole bene gesù non disse mai di no cominciando a studiare molti esempi di incontri di gesù con gli infermi e malati scoprì che egli non si negò neanche una volta davanti alla richiesta di qualcuno di essere guarito non farò qui la lista di ogni caso di guarigione operata da gesù invito il lettore a fare questo studio personalmente quando si studiano in molti esempi in cui gesù operò guarigioni si può arrivare ad una sola conclusione è volontà e desiderio di gesù guarire coloro che glielo chiedono un giorno un lebroso venne da gesù gli disse se vuoi tu puoi mondarmi le scritture ci dicono che egli ne ebbe pietà e rispose sì lo voglio sì mondato il salvatore sentiva compassione per i malati e affermò che era nella sua volontà guarirli luca riporta nel libro degli atti il fatto che pietro conosceva bene il ministero di gesù pietro raccontò che gesù andò torno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo vedi atti 10 38 pietro non conosceva un solo caso in cui gesù avesse rifiutato di sanare per questo affermò che egli aveva guariti tutti gesù è cambiato il gesù che serviamo oggi è lo stesso gesù che camminò su questa terra duemila anni fa sì lo è l'autore dell'epistola agli ebrei è chiaro su questo punto quando afferma gesù cristo è lo stesso ieri oggi è in eterno ebrei 13 8 che bella notizia è questa per chi soffre di qualche infermità o malattia possiamo andare dallo stesso gesù oggi come tanti malati fecero duemila anni fa e sapere che egli non ha cambiato atteggiamento nei confronti dei sofferenti era suo desiderio guarire allora ed è suo desiderio farlo oggi perché perché egli è lo stesso oggi di allora ha la stessa attitudine la stessa compassione lo stesso desiderio e la stessa potenza per guarire giovanni che conosceva bene il signore giunse a conoscere l'amore di gesù meglio di qualunque altro discepolo giovanni lo vide guarire in molte occasioni conosceva il suo atteggiamento verso gli infermi e i malati il desiderio di gesù divenne il desiderio di giovanni per i figli di dio sapeva che la salute rientrava nella volontà e nel desiderio di dio per il suo popolo così l'apostolo aveva lo stesso desiderio nel loro confronti carissimo io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute come prospera la tua anima terza lettera di giovanni versetto 2 alla gloria di dio tutta l'umanità glorificherà dio dio può essere glorificato in molti modi dai suoi figli gesù collegava la guarigione fisica con l'opera della salvezza di dio e la sua glorificazione mentre cristo stava passando davanti ad un cieco i suoi discepoli li posero una domanda riguardo a quell'uomo essi avevano dei pregiudizi sulla ragione per cui gli individui soffrono di infermità fisiche come la cecità gesù indicò che attraverso quella sua cecità sarebbero state manifestate in lui le opere di dio leggiamo il passo nelle scritture mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo maestro chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco gesù rispose né lui né i suoi genitori hanno peccato ma ci ha peccato